Ancora episodi di criminalità a Canicattì. Due malviventi ieri sera hanno rapinato la tabaccheria di Corso Umberto a due passi dal municipio. I due minacciando con il coltello chi in quel momento era dietro il bancone sono riusciti a farsi consegnare tutti i soldi che c'erano in cassa. Hanno fatto irruzione coprendosi il volto con delle sciarpe e con in mano un grosso coltello poco prima dell'orario di chiusura. Arraffato il denaro i rapinatori sono tornati sui loro passi e sono scappati almeno apparentemente a piedi. In Corso Umberto pochi minuti dopo il colpo sono accorsi i carabinieri. I militari dell'arma hanno subito avviato il rastrellamento delle vie attigue ma dei due balordi non è saltato fuori alcun indizio. Il bottino a quanto pare è stato quantificato in circa 250 euro. Appena all'inizio della settimana sempre due rapinatori armati con un coltello da cucina avevano rapinato un distributore di carburante in via Saetta nei pressi dell'ospedale Barone Lombardo. Non ci sono naturalmente certezze ma non è escluso che per il tipo di arma utilizzata e che per il fatto che fossero sempre in due a razziare sia sempre stata la stessa mano. Spetterà naturalmente all'attività investigativa dei carabinieri già avviata stabilire se tra i due episodi di microcriminalità vi siano meno dei possibili collegamenti.